eh si vaffanculo vatelo merda è forte questo che ho beccato contro non me ci posso ingazzar più di tanto è forte però che sfortuna ho fatto quell'errore con Salah all'interno area stiamo parlando di un'altra partita proprio se riesco ad entrare in aria dai 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 perché sto in offensiva e siamo tre contro il mondo vabbè sto provando quei tiri da fuori perché è l'unica cosa che riesco a fare non riesco proprio ad entrare in porta nooo non è fallo questo a me mi hai fischiato dei falli allucinanti vabbè guarda Pelé non me ne ha la molla vabbè non hanno deciso non vogliono combattere dai bastava che quel passaggio entrasse ma vaffanculo non mi fischia nemmeno nemmeno questo no vabbè dai ma che so sti falli che non chiami e dai 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 mi sei pentito che mi hai fatto pareggiare mi sei pentito non ci credo no vabbè ragazzi questo questo è quando deve vincere questo è quando deve vincere avevo potuto l'occasione per togliergli palla questo è quando deve vincere non mi viene da dire niente ma questo è quando deve vincere è bravo è bravo però se io analizzo l'ultimo gol se io analizzo l'ultimo gol è uscito proprio scritto il gioco una scritta senti ho deciso che vincerà lui questa partita perché non è possibile che io spalla spalla abbia lasciato in quel modo non è possibile guarda veramente non è possibile non è proprio possibile spalla spalla Maldini l'ha lasciato in quel modo non è possibile veramente è allucinante vabbè quando non devi vincere quando non devi vincere perché non è possibile che che spalla spalla mi hai fatto quella cosa cioè se io vado a vedere l'ultimo gol guardate qua palla ma che è sta roba ma che è sta roba a parte qua come se è saltato sti due lasciamo stare che non lo porta in replay ma già uno schifo totale tu lanci cioè guardate qua che cazzo fa il mio giocatore cazzo fa il mio giocatore lanci io chiedo la spallata il mio giocatore che fa state lì con me cioè tu dici ma tu c'hai i giocatori forti no quando un marzialo oro ti butta dentro uno zanetti così guardalo là zaga ramaldini e zanetti da là date lì come si è girato ma che è sto giro ma che come se n'è andato come se n'è andato come se n'è andato e poi giustamente la difficoltà di segnare da qua vabbè grazie a tutti Grazie a tutti.